Ciao a tutti, io sto nella mia casa, bellissima, sul camper, guardate, è bella, gialla, poi non poteva mancare e praticamente domani devo fare una super avventura, però ci vediamo quando fa Lalo, perché anche io devo andare a dormire allora, leggiamoci un bel libro, che sta leggendo il Mago di Oz, ci vediamo dopo vabbè raga, a me non me ne frega niente di andare a dormire, perché io, cioè, non ce la faccio a dormire, quindi io non voglio dormire, voglio divertirmi, voglio divertirmi come un pazzo, sì come un pazzo, ho boccato tutto allora vediamo, andiamo a seguirlo seguiamolo qui c'è una casa guarda che bella macchina che hai però, eh mi sa che la limousine ah, quella è la sua casa però non lo so molto cosa possiamo fare? allora, il gracio di store è aperto no, non è aperto cioè, adesso però non c'è nessuno, non voglio rapinare se io prendo un bel gelato, cioè, un bel gelato è meglio prendere e io prendo il mio gusto preferito, cioè, oi, torta, giusto torta molto buono, però, eh, vabbè, ci vediamo dopo, perché io vado a farmi un bel giro ragazzi, stiamo aspettando un'ora, questa, ah, un po' per fortuna che è andata, eh, ho parcheggiato qua la macchina, l'ho chiusa, l'ho chiusa cosa? c'è cosa è stato sonato a tre ore, queste cose, cioè non ho capito che cosa sta succedendo oddio, scusi, signora, l'ho investita su macchina ha rotto, chi è? vabbè non so chi è, vabbè allora, dai, io vado a farmi una bella nuotata nel mare speriamo che però non ci sono gli squali no, no, non ci sono qua c'è ancora una casa allora allora, nuotiamo, nuotiamo ma che cos'è questa cosa qua? c'è raga, che cos'è? vabbè, ve lo svelo ragazzi, lo sapevo eh, allora ragazzi, vedete? questa è una luce rossa non so che cosa serve cioè, guardate, c'è già un segreto raga, guardate, c'è una luce rossa e non si è capito il perché c'è questa cosa rossa magari se la tocco da qualche codice molto strano molto strano il rosso forse si è fatto male qualcuno ciao, ciao tizio allora no il paleno ah, raga ma c'è qui anche questa c'è una barca eccola ah, sì ci si può mettere su ok perché non va? ehi, vai vai barca perché non vai? come hanno rapinato il mio cassaforte? oddio ebbè, tanto c'erano soldi finti, tritti dove ci porta? dove ci porta? ci porta qua? molto strano che ci porti in quella grotta io stavo costruendo camminando ma, cioè, non è che muoveva muoveva il mio personaggio allora davanti c'è non dico niente ma c'è uno scivolo a dollo allora io voglio prendermi perché non si gira la visuale gialla ho bloccato tutto giallo comunque oddio sono andato proprio sopra oddio si si bagga allora possiamo arrivare allora andiamo intanto dentro perché non so che si sta nascondendo questa cosa allora questa c'è una normale cosa ma se noi andiamo qua al bagno qua sopra c'è forse una tana ecco guardate ragazzi c'è tipo un fantasma la bambola tipo assassina c'è tipo questo qua non ho capito forse magari la bambola assassina cioè dico quando magari è mezzanotte magari scompare scompare cioè scompare oppure fa qualcosa di brutto magari allora io aspetto no non devo salire tutto scusa ma che cosa fai il problema è che cosa fa quello cioè quel quel tizio e ci sei pure riuscito come è fatto come è fatto oddio 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 cioè ma e ma cioè allora questo qua sarebbe tipo un camping andiamo però a vedere se ci sono magari degli item allora vediamo se hanno aggiunto qualcosa sull'inventario sull'inventario non hanno aggiunto niente quello che vedo strano che non hanno aggiunto niente no non hanno aggiunto niente ok allora la brava buona allora possiamo andare anche però allora c'è una macchina anche c'è una macchina sì eccola tipo quella del riciclo ma cosa ma si possono buttare i rifiuti cioè tipo veramente ah vedete qua sotto c'è tutta l'immondizia cioè raga adoro adoro queste cose ah per mettere cioè sono proprio intelligente questa cosa andiamo quindi ad andare con questa qua è 55 per io è 55 55 allora dove possono essere i secchi della spazzatura i secchi della spazzatura stanno qua vicino ma sì il problema è cioè si possono prendere questi qua perché non ho capito molto bene ahia cavolotte vedo questa cosa ma se io metto così no non si prende scusa ma si doveva prendere in quel quel modo vabbè non funziona però molto carina per fare le roleplay allora molto carina questa qua però a me piacerebbe cambiare il colore bianca ah no devo accettare ma io sul computer c'è lo posso cambiare il colore perché qua non cioè non fa non si sa non si sa non si sa non si sa perché non si sa non si sa perché non si sa non si sa adullo adullo e se sto vedere tutto sto adullo perché adullo comunque grazie per i 40 iscritti grazie adesso mi stai seguendo a me questa è la mia casa visto che è stata rapinata da qualcuno dobbiamo mettere dentro casa qua abbagati perché dovete vedere vedere qua che prima era vero ah vero mi hanno rapinato che stavo dicendo forse un bug qualcosa ma allora vabbè allora andiamo indietro tututututum tututututum allora quindi però allora vi saluto ci vediamo nel prossimo schianto video ciao ciao oh guardate ciao ciao Ciao